Oggi vi mostro come preparo io il mio tiramisù al pistacchio preferito. È super facile, veloce, davvero davvero buono ed è anche senza uova. Per la crema mescolare con una spatola 250 g di mascarpone con 130 g di crema spalmabile al pistacchio. Io non aggiungo zucchero ma se la volete più dolce vi consiglio di assaggiarla. In una ciotola mescolare 100 g di caffè espresso con 50 g di latte preferito e aprire 5 confezioni di pavesini. Inzuppare i pavesini nel caffè latte per un secondo e mettere sulla teglia. Io ho usato una da 20x20 e mi sono venuti 4 strati. Coprire i pavesini con 2 cucchiaiate di crema. Procedere con il secondo strato di pavesini inzuppandoli sempre un secondo nel caffè latte e con un altro strato di crema fino a terminare gli ingredienti. Mi raccomando non abbondate troppo con la crema tra uno strato e l'altro. Terminare la superficie, quindi l'ultimo strato, con la crema. Tritare grossolanamente con un coltello anche 50 g di pistacchi. Se volete potete mettere sulla superficie anche un paio di cucchiaini di crema spalmabile e poi terminare con i pistacchi tritati. Mettere in frigo per almeno un'ora. Mettere in frigo per almeno un'ora.